Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Quando è venuta al mondo, in città probabilmente imperversava ancora il rumore dei fuochi d'artificio a coprire ogni cosa, mentre le strade di Napoli, erano gremite di gente in festa per la vittoria del terzo scudetto della storia della squadra partenopea. E allora, in un clima del genere, la prima bambina nata in città proprio dopo il tango agognato traguardo non poteva che chiamarsi Azzurra, come i colori che contraddistinguono la squadra. Così alle 24 e 38 del 5 maggio, quando il Napoli era campione d'Italia soltanto da circa tre ore, la piccola Azzurra è nata all'ospedale Villa Betania, periferia est della città. È stato il papà di Azzurra, al settimo cielo per la gioia della paternità e per la contemporanea vittoria dello scudetto del Napoli, a rendere noto quando accaduto. L'uomo si è rivolto al conduttore radiofonico Gianni Simioli, che sulla sua pagina Facebook ha raccontato la vicenda, pubblicando le foto della piccola e il messaggio del suo papà. Ciao Gianni, volevo dire a te e chi ti segue che a Villa Betania, a Ponticelli, è nata la prima bambina dello scudetto alle 24 e 38 del 5 maggio. L'abbiamo chiamata Azzurra ed è proprio mia figlia. Due emozioni uniche, doppia gioia e un futuro, per la nostra piccola tutto azzurro. Ti abbracciamo.